Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, parliamo di viabilità in città e gli appuntamenti del fine settimana, domenica in particolare, domenica sono in programma manifestazioni socio-culturali a Centocelle in via dei Castani, a via di Torsapienza e a Ostia in viale delle Repubbliche Marinare. Le chiusure al traffico e le deviazioni bus in dettaglio sono su romamobilita.it, complessivamente questi eventi interesseranno i percorsi di 10 linee di bus.